È una sensazione strana perché ti aspettano 120 km di mountain bike, circa 6 ore di gara. Tra mandare le passioni a Baird in Puglio in tutti gli ambiti, è facile per l'invio, prendi per esempio il proprio genitore come ho fatto io con mio padre. Subito ho sentito che la gamba c'era. E' stata una gioia immensa. Andate in mondo ormai. E' stata una gioia immensa. E' stata una gioia immensa. E' stata una gioia immensa.